Un grande cartello con scritto vetato l'ingresso e non addetti ai lavori. Come vedete i giardini di Lungarno del Tempio sono stati ampiamente recintati in una porzione piuttosto estesa perché saranno oggetto di lavori, di interventi che appunto nelle prossime settimane porteranno la zona dal degrado in cui versava in questo periodo a una condizione almeno più accettabile. Un impegno quello dell'amministrazione comunale che riguarda anche il bocciodromo o per meglio dire l'ex bocciodromo un'altra zona regno del degrado che in queste settimane era stato oggetto di polemiche appunto sui problemi tra l'altro in questa zona trovano rifugio alcuni rom proprio sotto questa tettoia. E certo per la zona di Firenze Sud, una zona di pregio, una zona importante, un po' una delle porte della città non era questo lo spettacolo migliore. Come vedete dunque la recinzione è già stata attuata e appunto nei prossimi giorni dovrebbero partire gli interventi interventi che riguarderanno il verde pubblico ma anche gli arredi per ridare lustro a una zona che come vedete è particolarmente frequentata dalle persone che vengono qui a passeggiare o a correre e a fare un po' di attività fisica. Gli interventi dovrebbero appunto riguardare tutta la zona dei Lungarni del Tempio vedremo se nelle prossime settimane appunto i lavori procederanno in maniera spedita. Per il momento sul caso dei Lungarni del Tempio è tutto per la Nazione.it Francesco Marinari.